Credo che oggettivamente chiunque nel Paese si sia posto delle domande, perché c'è una concomitanza di fatti che non possono essere semplicemente e solamente ascritti al caso, sottovalutazione piuttosto che equivoci o circostanze per le quali qualcosa di più, sicuramente più coordinato poteva e doveva essere fatto. Penso ai mezzi che dovevano sparare la neve, che dovevano togliere la neve, alle frese, alle turbine, penso alla difficoltà anche nel comprendere nella telefonata che cosa stava accadendo, nel capire se si trattava di quell'edificio o di altro, aspetti che ci dicono che c'è una catena di comando che oggettivamente non ha funzionato, comunque va registrata, perché tutto quello che è legato all'evento atmosferico era abbondantemente noto. Non era noto l'evento calamitoso, il terremoto. La drammatica concomitanza della nevicata col terremoto credo che sia alla causa principale rispetto a questa Slavina, a questa valanga, ma la grande nevicata, il momento di isolamento nel quale si sarebbero trovati queste persone, questo era tutto abbondantemente prevedibile e in una realtà dove la neve non è un fatto estraneo.